Una comicità, quella di Villaggio Fantozzi, che forse attinge allo stereotipo un po' al luogo comune, ma nella quale più di uno di noi si sarà riconosciuto. Due terzi della popolazione italiana vive in strutture condominali e a volte le comunità condominali comprendono così tante unità da diventare dei veri e propri paesi. Noi ora ne parleremo con Andrea Soramel, che è il vicepresidente regionale della NACI, ossia l'Associazione Nazionale Amministratori di Condominio Immobiliari, che è collegato con noi dallo studio di Udine. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, una figura che ha cambiato fisionomia dopo 70 anni, con una nuova legge, l'abbiamo detto in apertura, entrata in vigore nel giugno scorso. Allora, Soramel, quali sono i cambiamenti più sostanziali, più importanti? Beh, diciamo che questa legge di riforma ha veramente modificato completamente la materia del condominio e delle gestioni immobiliari, cercando così di implementare tutto quello che di moderno e di nuovo si è venuto a creare in questi anni e soprattutto, diciamo, negli ultimi 20 anni, nel modo di vivere il condominio e soprattutto nel modo di gestire le comunità condominali, con particolare riferimento praticamente a tutto quello che è l'ambito assembleare al quale la riforma ha dato particolarmente risalto, proprio perché oggi è molto importante che l'assemblea possa avere un consulente valido, quindi la figura del lavoratore sempre più preparato, sempre più professionalizzato, per poter gestire e decidere tutto quello che concerne le strutture e la vita dello Stato. Insomma, le assemblee non sono più come quelle che abbiamo visto nella clip? No, fortunatamente no. Io mi sono divertito a vedere il servizio di apertura, ma devo dirvi, e questo lo dico perché spesso anche mi vengono posti dei quesiti su come si vive l'assemblea, su come si vive questa professione, e devo francamente dire che le assemblee sono molto lontane, quelle di oggi, da quelle di Fantozzi, fortunatamente anche per noi operatori. Esiste ancora la figura del, una volta si chiamava capocasa? Beh, oggi sì, diciamo che esiste ancora la figura, ma è completamente modificata, modernizzata anche questa. Il capocasa in realtà è il consigliere di condominio, che ha un ruolo di collegamento proprio tra la comunità condominiale e la figura dell'amministratore, ed è anche l'organo principale di consulenza dell'operato dell'amministratore. Allora, lei mi diceva che è davvero molto importante la formazione, no? Anche questo è uno degli aspetti forse più caratteristici di questo cambiamento. Sì, fondamentale. Fondamentale. Mi ha fatto cenno molto brevemente, esistono anche dei supercondomini, basta un unico gestore in questo caso, ne faceva cenno poc'anzi la dottoressa? Beh, no, in quanto il supercondominio è una forma complessa di condominio, data praticamente da servizi comuni ad un insieme, diciamo, di palazzine, così spiegato in modo molto stringato. E di conseguenza in questo caso è necessario che ci sia un amministratore di supercondominio che ha il compito di gestire tutti gli impianti e le parti comuni intercondominali, e poi gli amministratori delle singole palazzine che invece appunto hanno il compito di recepire anche i dati di bilancio e le delibere prese dall'assemblea supercondominiale implementando con quelli che sono i costi, i dati e le delibere delle singole realtà condominali che hanno il compito di gestire. Ecco, Andrea Soramella, siamo davvero in chiusura. Oggi non poche famiglie hanno difficoltà economiche, vorrei chiudere su questo. Voi tenete in considerazione questo aspetto per quanto attiene alle spese da affrontare, anche l'accesso al credito? Una battuta finale. Guardi, è un tema molto ampio. Diciamo una cosa che purtroppo la riforma ci ha stretti molto su questo aspetto, perché ha previsto delle sanzioni non indifferenti per i casi di morosità. Diciamo che si cerca di venire incontro, soprattutto possiamo farlo in quello che è l'orientamento della fase decisionale assembleare per quanto riguarda le spese straordinarie. Le spese ordinarie di gestione purtroppo non possiamo fare molto, perché i costi tendono sempre ad incrementarsi. Grazie ad Andrea Soramella, il vicepresidente regionale della Naci. Buongiorno, buona giornata.